Ciao carissimi, vorrei commentare e condividere con voi la mia opinione rispetto a quello che accade attorno alla polemica sulla presenza di Presidente Ucraino Zelensky nel Festival di Sanremo. Come sapete si parlava prima della possibile presenza tramite un video, quindi lui doveva essere in collegamento, checchierare magari con gli organizzatori del festival, con questo personaggio che svolge il festival. Io sul Festival di Sanremo non sono un grande esperto, non sono un grande esperto di questo tipo di cultura italiana, sempre insomma ammesso che di cultura si parla, io sotto la parola cultura intendo altre cose, però anche Festival di Sanremo nel suo contenuto comunque fa parte del mondo culturale. Io non voglio commentare assolutamente in nessun modo i contenuti delle manifestazioni come Festival di Sanremo, proprio perché per me si tratta già di suo, di una parte della cultura moderna che non degna dell'attenzione di chi vuole veramente approfondire un particolare rapporto con la cultura, con il bello, con la poesia, con la poesia, con la musica, per me tutto questo sta fuori da ciò che è Sanremo. Io Sanremo lo percepisco come una grande fiera del vuoto, vuoto umano, vuoto culturale, vuoto poetico, cioè una gara tra tutto quello che rappresenta la nostra attuale cultura dell'estetica priva dei contenuti. Quindi per me il mondo dove mancano, scarseggiano disperatamente contenuti e quindi si cerca di in qualche maniera rimediare la mancanza del contenuto utilizzando l'estetico utilizzando l'estetico utilizzando la cornice, utilizzando quello che è l'involucro. Quindi quando una persona ha poco da dire, non so, si fa travolgere esteticamente e fa lo shock e dà qualche messaggio che lui perseguita, non so, che lui vorrebbe comunicare con il resto della società, per carità sempre si tratta di un'operazione culturale, però secondo me, sottolineo, io personalmente seguo un altro tipo di comunicazione culturale. L'arte, la musica, la poesia, la letteratura, per me non hanno niente a che fare con manifestazioni come quelle di Sanremo. Qua si tratta proprio dello spettacolo, dello spettacolo tra l'altro anche più becero che esiste, il mondo dello spettacolo intendo, tutto quello che è legato a tutto ciò che è la vera cultura critica e rifiuta. E quindi per me è già complicato, insomma, era già complicato immaginare la presenza in un luogo del genere un personaggio come Zelensky perché facevo fatica a immaginare che tipo di contenuto, che tipo di messaggio può portare lui in una situazione già così degradata come il festival di Sanremo. Per cui degradato ovviamente culturalmente parlando, umanamente parlando, cioè una situazione che, una manifestazione che si è trasformata in una vera e propria vetrina delle nullità, di tutto quel poco approfondito che esiste nella nostra cultura, si mette in vetrina e quindi cerca di attirare l'attenzione non per il proprio bagaglio culturale, non per la propria vicinanza a un pensiero profondo, ma al proprio involucro, alla propria pelle, ai propri vestiti, ai propri costumi o più, forse più facile dire, alla mancanza dei costumi. E quindi in questa situazione, ripeto, immaginare un intervento di un Zelensky, non lo so che tipo di comunicazione poteva dire, cosa avrebbe potuto dire, oppure dirà, perché si è discusso molto proprio sul fatto che lui sarà presente, quindi ci sono molte persone che si sono arrabbiate perché hanno detto ma sì, ma come Masilensky sarà presente al Festival di Sanremo, un festival così importante, un festival di musica italiana, per gli italiani un momento importantissimo, tutti a casa, a guardare questa bellissima manifestazione, a sentirsi quasi più italiani, come del solito quando succede durante certe partite di calcio, durante il Mondiale, quando improvvisamente nel popolo italiano si risveglia questo spirito di appartenenza che purtroppo dorme e manca durante il resto dell'anno. Comunque si parlava proprio di questo momento magico italiano e qua appare Zelensky. Secondo me è molto significativo che questa situazione è immersa che a Zelensky è stato proposto di andare là, perché il Festival di Sanremo intanto si è manifestato per quello che è diventato nei tempi. Forse una volta era un festival di musica italiana, forse una volta era un festival dove c'era il contenuto artistico, un festival dove c'era contenuto musicale, dove si parlava di poesia, dove si parlava di una certa serietà. Mentre nel frattempo è diventato una vera e propria baccanaglia di personaggi totalmente lontani da qualsiasi forma d'arte, personaggi che soprattutto diventano le pedine del mondo moderno di discografia, di questa becera cultura economica che abbiamo, cultura di consumo, dove chi urla di più, dove chi fa più scandalo, dove chi fa più follower, dove chi cerca di mettere davanti agli occhi dei propri spettatori, le parti più scandalose di sé, le parti più provocatorie, riesce ad ottenere il successo. E forse in questa visione del festival, di quello che è diventato oggi festival, è normale che Zelensky sia stato invitato, perché Zelensky fa parte proprio del mondo dello spettacolo occidentale, è prodotto di questa cultura dello sfruttamento di quello che una volta era l'impegno culturale, della cultura ormai è rimasta solo la parola, e lui deve sicuramente partecipare alle cose del genere, perché il sistema che lo ha creato, il sistema della propaganda occidentale pagata con dei soldi degli oligarchi occidentali, quelli che sono interessati di mantenere il proprio controllo sulle aree geografiche che a loro interessano da sempre, che loro da sempre reputano il loro cortile di casa, come ad esempio i paesi dell'Europa occidentale, il paese dove noi viviamo. Ovviamente questa gente, il loro prodotto vuole piazzare su una delle loro bancarelle più importanti, su una delle loro più importanti vetrine. Così è successo ad esempio quando il gruppo ucraino ha vinto l'Eurovision, cioè noi abbiamo visto e abbiamo assistito a questa come chiamarla, operazione propagandistica, non c'è un altro modo di chiamare queste cose, perché qua si tratta di propaganda. Sono arrivate le persone che non fanno musica, non hanno né arte né parte. E a loro è stato conferito un titolo solo perché loro sono provenuti dall'Ucraina che è stata aggredita dai russi. Quindi, e questo è avvenuto non solo in quella direzione, anche ci sono state le vittorie sportive abbastanza discutibili, proprio perché si è sviluppato questo modo di trattare in una maniera particolare quelli che noi vogliamo, la nostra propaganda vuole far passare per le vittime. Cioè noi occidentali abbiamo creato una narrazione di povere vittime, perfette, ideali, come si scrive, scrivono molti democratici, baluardo della democrazia, gente che lotta per i valori occidentali, ovviamente lontano dalla realtà perché in Ucraina non c'è né democrazia né valori occidentali, è un paese dove purtroppo sono deliberati certe visioni dell'estremismo di destra che fanno paura alla gente per bene e dovrebbe fare paura e quindi di fronte a tutta questa situazione negativa che si sviluppa là in qualche maniera devono le forze che cercano di trasformare l'Ucraina in vittima e cercano di continuare questa narrazione di vittima devono continuare a rappresentare anche i leader di questo paese, i funzionari in un certo modo quindi per questo Silensky sempre gira con la maglietta per questo lo sempre riprendono in un certo modo per questo nelle interviste lui ha un discorso sempre impostato in una certa maniera perché ci fanno fare un grande film noi stiamo guardando una grande serie televisiva creata io penso che questo progetto questo momento storico passerà nella storia come prima guerra dove la più grande battaglia si è svolta proprio sulle sulle piattaforme di informazione e piattaforme di intrattenimento dove le piattaforme di intrattenimento sono più grandi armi da guerra si sono rivelati più grandi armi da guerra per cui in questa situazione è normale che Zelensky sia stato invitato a Sanremo quindi non c'è niente di strano se hanno cominciato a parlare di questa cosa se i nostri giornalisti soprattutto quelli che come io spesso dico hanno perso la loro lingua nel di dietro di oligarchi anglosassoni e in quelli dei loro pupazzi e ovviamente anche in questo momento loro stanno facendo tutta una narrazione particolare di Zelensky in questo momento questi giornalisti normalmente che esaltano questa iniziativa però quello che mi ha colpito in realtà è quello che ci fa sperare è la reazione dei molti italiani questa è una cosa su quale bisogna concentrarsi vuol dire che non è del tutto morto in Italia non è del tutto in Italia e si è trasformato in una becera e corrotta propaganda atlantista oligarchica qua ancora ci sono persone che ragionano che si domandano su quello che accade che vogliono le informazioni obiettive vogliono assicurare al proprio paese se vogliamo un certo livello di vera sovranità sovranità che l'Italia ovviamente politicamente non ce l'ha perché l'Italia è un paese totalmente gestito dai sistemi anglosassoni l'Italia è un paese possiamo dire uno zerbino delle statenze d'America e della Gran Bretagna però ci sono molti cittadini che si stancano di questa cosa e se prima questa cosa magari si sentiva un po' come un retroscena soffice e non entrava in conflitto diretto con gli interessi di molti italiani adesso molti italiani sentono che questa prepotenza del sistema anglosassone li sta facendo male sta facendo male alla nostra economia sta facendo male alla nostra cultura alla alla propulsione politica del nostro del nostro paese ci sta rendendo sempre più ridicoli e sempre meno liberi e ovviamente quelle persone che cercano di informarsi che cercano di trasmettere le informazioni e lo fanno già dai tempi del covid perché covid è stata la prima ondata nella quale il sistema che ci sta devastando ha dimostrato le sue capacità oppressive e quindi molti degli italiani hanno cominciato a sollevare la testa già nel momento di gestione del covid e poi con la guerra in Ucraina abbiamo toccato il fondo e quindi molte persone hanno espresso la loro la loro posizione negativa la loro disapprovazione riguardo all'apparizione di Zelensky al festival di Sanremo tanto che i potenti hanno capito che se lui apparirà invidio durante il festival questo danneggerà pesantemente la sua la sua figura quel quel poco di autorevolezza che le è stata creata dal sistema mediatico qua in Italia quindi quelle persone che gestiscono le immagini di Zelensky qua in Italia sicuramente hanno suggerito ai padroni di Zelensky a quelli che si occupano di questo prodotto di marketing politico hanno suggerito di evitare questa cosa quindi per questo motivo adesso hanno fatto un retromarcia hanno detto che forse sarà letto un messaggio perché per loro dire è molto pericoloso di dire noi abbiamo deciso di non far partecipare completamente Zelensky a Sanremo vuol dire che loro hanno perso comunque loro hanno perso in ogni caso perché il fatto che hanno fatto retromarcia vuol dire che le masse in Italia hanno dimostrato che la loro il loro atteggiamento e la loro opinione vale di più del desiderio dei padroni rispetto a quello che succede nel festival di Sanremo e per evitare che in Italia le persone andassero oltre per tenere la nostra società sempre in questo in queste soffici tenaglie ideologiche hanno deciso di non esporre il loro prodotto su questa vetrina però lo faranno in una maniera diversa comunque leggeranno un un testo questo a mio avviso è abbastanza emblematico è un fatto positivo non per non so per Putin perché a Putin non può fregare di meno di Zelensky di Sanremo dell'Italia e di tutto il resto lui sta pensando di altre cose geopolitiche ha la testa da altra parte adesso del vecchio continente insomma lui ha un'idea complessiva e non tratta i paesi singoli lui da tempo Putin già non non ha illusioni nei confronti delle 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 mancanze mancanze di di indipendentismo all'interno della vecchia Europa lui capisce che i paesi di vecchia Europa sono totalmente schiavi degli Stati Uniti d'America quindi lui quando c'è da parlare con qualcuno parla con gli americani qua non penso che lui considera seriamente qualcuno che proviene dai paesi di vecchia Europa quindi a Putin non ne frega niente di questa cosa lui secondo me neanche neanche segue queste situazioni magari le dicono magari le scrivono sul foglietto come una notizia tipo Zelensky non apparirà Sanremo in video però sarà letto il suo messaggio e lui leggerà mentre beve il suo caffè di mattina o il tè con il latte non so cosa beve lui con biscotti e dirà che se ne frega e va avanti questa notizia è importante per noi e deve dare gli italiani un messaggio chiaro la nostra società è capace di ribellarsi in maniera civile in maniera se vogliamo anche non violenta grazie alla compattezza unidirezionale se noi ci uniamo tutti e indipendentemente dalle nostre opinioni divergenti su varie cose ma se su una su una concreta tematica noi riusciamo ad impegnarci e dimostrare il nostro dissenso siamo ancora in grado di cambiare qualcosa e questa è una cosa buona non so se gli italiani lo capiranno io spero di sì non so se la maggioranza degli italiani farà un tesoro di questa esperienza io spero di sì ma una cosa importante è che questo è un grande segnale che il sistema di propaganda anglosassone che padroneggia nel nostro paese ha temuto seriamente l'opinione delle persone che si oppongono a certi meccanismi di questo sistema e quindi è un segnale buono e positivo per chi si oppone a chi non ne frega niente ovviamente continuano a fregare niente c'è Zelensky non c'è Zelensky su Sanremo ci sono persone che leggono la gazzetta dello sport continuano a pagare la loro Alfa Romeo a rate e per loro sono importanti queste cose lì poi della guerra in Ucraina a loro basta quello che scrivono 4-5 giornali di propaganda loro non leggono neanche articoli leggono i titoli e dai titoli già capiscono quello che a loro serve per capire e la loro opinione si è creata su questa cosa poi spesso a me capita leggere alcuni messaggi di questi signori o signore sui miei canali che si atteggiano anche da esperti io mi rendo conto che bastano 2-3 frasi 2-3 dati storici per smontare tutto il loro mondo fettizio che hanno in testa però a loro non fregarà niente sicuramente loro sono concentrati su altre cose mentre per gli oppositori per chi da tempo ha capito che si trova in una bolla della propaganda e dell'informazione gestita dai corrotti questo è il momento importante o il momento da ricordare un momento da prendere come l'esempio per un per l'organizzazione di una un futuro atteggiamento nei confronti di questo sistema forse si potrà uscire fuori da questa terribile situazione che stiamo vivendo grazie carissimi per essere stati qui con me vi mando un forte abbraccio vi invito a seguirmi sul mio canale Instagram sul mio canale YouTube sul mio canale Facebook se volete approfondire le informazioni che io non posso per motivi di censura pubblicare sui canali sovracitati io vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram il mio canale Telegram ufficiali si chiama Nikolai Lilin andate lì registrate seguite i miei video perché troverete molto di quello che il nostro mainstream non vi farà vedere io cerco di essere obiettivo e di riportare le notizie per quelle che sono grazie amici un forte abbraccio